salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video come avrete intuito sono con la bicicletta e c'è un motivo perché perché oggi andremo a fare una prova con il fimi x8 mini v2 questo drone che ho portato qualche video fa la recensione completa sul canale e una diciamo dei suoi miglioramenti dichiarati da fimi e il active track questo volo automatico che nella prima versione del fimi x8 mini non era sicuramente il suo punto di forza perché comunque perdeva il soggetto in maniera semplice se il soggetto in movimento abbastanza veloce intendo tipo con una bicicletta mentre vabbè a piedi ce la faceva mentre in questa versione v2 è stato migliorato perché è stato ovviamente inserito un nuovo processore quindi la velocità di calcolo è molto più performante e di conseguenza questo active track è migliorato nel poter seguire i soggetti anche con la bicicletta quindi la prova che andremo a fare oggi appunto è un active track con il dgi mini v2 perché lo ritengo sicuramente il miglior drone attualmente sul mercato per rapporto qualità prezzo infatti lo si va a pagare circa 270 euro nel sito film store vi lascio qua sotto i link in descrizione o anche 299 euro sul sito di amazon anche se non sempre è a quel prezzo sullo store di amazon però ragazzi è un drone che pagato sotto i 300 euro è pazzesco perché è in grado di fare cose che nessun altro drone in quella fascia di prezzo in grado di fare ovviamente stiamo parlando di active track per esempio e poi anche quello che è proprio la sicurezza di volo il comportamento di volo e la qualità video è davvero notevole per un drone che come abbiamo detto è un drone che io ritengo low costa è paragonato a quello che sono i droni dgi ovviamente non è un dgi mini 4 pro nell'active track sicuramente no perché con lui non abbiamo i sensori anti collisione quindi quando si fa l'active track con questo drone bisogna tenere in considerazione questo fatto che i sensori anti collisione non sono presenti quindi va fatto in zone in cui non abbiamo ostacoli però non è che si può chiedere in meno di 300 euro anche i sensori anti collisione e magari performanti come quelli di già perché comunque dgi ok ci dà questo tipo di sicurezza che sono i sensori anti collisione che funzionano davvero benissimo ma stiamo parlando di un drone che costa quasi 1000 euro quindi ovviamente non regge il paragone dal punto di vista economico ma qua abbiamo comunque un qualcosa che funziona davvero bene in una fascia di prezzo che diventa molto molto accessibile quindi detto questo adesso direi di recarci nella location del active track e poi iniziamo questo volo automatico col fimi x8 mini v2 perfetto ci siamo il fimi x8 mini v2 è lì pronto dietro di me ricordatevi sempre che con i droni fimi e hapsan bisogna avere un'altezza minima per i voli automatici di 5 metri al di sotto di quell'altezza loro non faranno i voli automatici quindi detto questo proviamo questo active track con e bike con il fimi x8 mini v2 andiamo allora sta arrivando sì siamo a 13 chilometri orari adesso appena esco dal campo magari aumenta un po la velocità per vedere quanto è in grado di diciamo tenere agganciato il soggetto comunque la prima versione di questo drone mi avrebbe già perso perché non era proprio il massimo l'active track che aveva perché il processore come abbiamo detto non gli dava la possibilità di fare un calcolo veloce quindi con la bicicletta perdeva il soggetto vediamo ok sta arrivando adesso siamo a quasi 14 chilometri orari 15 lui sta arrivando vedete che adesso tiene il soggetto anche a queste velocità che erano impensabili per la vecchia versione siamo a 17 chilometri orari e sta comunque tenendo il soggetto inquadrato cioè io vediamo sì ok aumentiamo ancora un po la velocità siamo a 18 chilometri orari e lui è lì e tiene benissimo inquadrato il soggetto con una bicicletta siamo quasi a 20 chilometri orari e continua a tenermi inquadrato ricordatevi sempre che non ci sono i sensori anti collisione quindi state sempre attenti dove fate questi active track perché potrebbe comunque andare a finire male nel senso che potrebbe andare a sbattere contro una pianta o contro magari un palo della luce piuttosto che ok ci siamo facciamo ancora questo pezzo con la curva vediamo se mi tiene inquadrato si calcolate che era quasi contro sole anche era una buona parte del tragitto era un po contro sole e non mi ha perso adesso invece al sole a favore e mi sta tenendo agganciato è guardate che spettacolo adesso sono a 17 chilometri orari è perfetto vediamo eccolo qua adesso proviamo a farlo andare all'indietro vediamo se si vedete che mi sta inquadrando andando indietro vediamo che allora sta andando indietro si sta spostando sul fianco perché comunque loro tendono sempre a spostarsi per poi riagganciare il soggetto da dietro infatti vedete che adesso mi ha già riagganciato da dietro andiamo adesso è contro sole vediamo se contro sole riesce a tenermi agganciato perché è proprio lì il sole e lui è dietro e ce l'ha proprio proprio di fronte e sta comunque tenendomi agganciato è orca volevo andare di lì ma c'è un'acqua incredibile meglio di no andiamo da questa parte però passo un po nel campo perché non vorrei che vado a beccare queste piante quindi sto un pelo largo qua qua è meglio che scendo perché c'è un fosso perché non volevo rischiare passando dalla parte di lì dove c'erano quelle piante perfetto ripartiamo wow guardate che spettacolo è fantastico di cadere in un fosso ok sì uno spettacolo ragazzi uno spettacolo l'unica pecca ovviamente sono i sensori anti collisione assenti ma in una fascia di prezzo così è impensabile che siano installate soprattutto se mai ci fossero stati non sarebbero stati funzionanti come quelli di dj ai perché veramente qual prezzo è davvero molto molto basso e vi ricordo che con 270 euro dal sito film store qua trovate il link in descrizione ve lo portate a casa e quindi sarebbe veramente assurdo ok sta arrivando aumentiamo un po la velocità siamo a 20 chilometri orari sta arrivando si sta arrivando mi fermo perché c'è la pianta qua e non vorrei di rischiare di andare addosso alla pianta mi giro da questa parte almeno lui magari mi segue di qua ok si adesso mi sta seguendo da questa parte e via ok e possiamo tornare da dove siamo partiti eh guardatelo lì che spettacolo accelerata finale potenza massima della bici 20 chilometri orari sgommata finale e siamo arrivati ed ecco qua timi x8 mini v2 non so se dalla telecamera riesco a farvelo vedere ma è lì ok adesso lo facciamo atterrare ad interrompere l'active track ok ad interrompere la registrazione e lo facciamo atterrare ed eccolo qua timi x8 mini v2 allora ragazzi avete visto che spettacolo di active track è in grado di fare adesso lui il film x8 mini v2 rispetto alla versione precedente c'è stato un upgrade incredibile perché veramente adesso tiene inquadrato il soggetto anche su nei bike anche a 20 chilometri orari senza nessunissimo problema anche contro sole cioè veramente che i droni fanno fatica contro sole a tenere inquadrato un soggetto e non perdono perché comunque la telecamera va in crisi con il sole sparato direttamente dentro nell'obiettivo invece lui ce l'ha fatta benissimo anche in quella situazione è veramente pazzesco l'unico pericolo sono gli ostacoli perché non avendo sensori anticollisione bisogna stare attenti a dove lo si utilizza con questa funzione perché ovviamente lui non si ferma e se c'è un ostacolo ci va addosso ma per il resto veramente il nuovo processore che è stato installato all'interno di questo drone riesce grazie alla sua potenza di calcolo nettamente superiore alla versione precedente di tenere inquadrato il soggetto in ogni condizione quindi se questo mio video in cui vi ho portato questa evoluzione dell'active track e del film x8 mini v2 rispetto alla versione precedente vi è piaciuto l'avete trovato utile ed interessante lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novità ante prime spoiler anche di questa giornata erano arrivati degli spoiler e sempre se vi va iscrivete al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni ma tutta la tecnologia in generale anche di lui quando il coupon sconto lì li trovate ma soprattutto iscriviti a questo canale youtube per non perdere neanche un video un volo una recensione un test un tutorial o novità ciao e al prossimo video